Oggi la polemica surreale sulla spesa, oggi non sono uscito, è scesa la Francesca a fare la spesa lei da sola, così almeno non esco, oggi così almeno gli amici del PD e gli amici dei 5 Stelle avranno altro su cui far polemica, oggi non sono andato a fare la spesa, così contenti? L'Italia va meglio se Matteo oggi non è andato a fare la spesa, ci è andata solo Francesca, domani ci andrò io e non ci andrà lei e quindi ci diamo il turno così almeno a sinistra hanno altro di cui occuparsi e a leggere i commenti di chi sta scrivendo. Siamo ottimisti, siamo fiduciosi, sappiamo che il lavoro dei medici, degli operatori sanitari, dei biologi, dei virologi, dei ricercatori è eccezionale, però è chiaro ed evidente che l'economia italiana, le imprese italiane, i negozi italiani, le fabbriche e le famiglie italiane non torneranno nella normalità a giugno, ma probabilmente neanche a luglio, neanche ad agosto, quindi non basta uno o due mesi di rinvio o di sospensione, serve l'azzeramento, l'annullamento delle tasse per molti settori produttivi. Questo l'abbiamo proposto, non è stato accettato, lo riproporremo, numeri alla mano nei prossimi giorni.